Fratelli e sorelle nel Signore, allora questa sera voglio parlarvi delle varie epoche, delle varie epoche che ci sono state, che ci saranno anche in futuro, è l'epoca che stiamo vivendo noi, come sono, come le descrive, come le definisce la parola di Dio, la Bibbia. Quindi nella scrittura sono indicate diverse epoche. Che cosa è un'epoca? Un'epoca è un periodo di tempo che è caratterizzata da determinate cose particolari storiche, che hanno una determinata importanza. Naturalmente noi analizziamo queste epoche con dei fatti particolari dal punto di vista della Bibbia, dal punto di vista di Dio. Che cosa è importante per capire questi periodi? A che cosa noi dobbiamo stare attenti? Che cosa ci può servire? Ad esempio ci serve e dobbiamo conoscere cosa Dio ha fatto in quelle epoche, cosa farà in ciascuna epoca. perché ciascuna epoca può rappresentare delle uguaglianze con altre, ma anche ha delle diversità. Quindi noi le dobbiamo distinguere e noi dobbiamo conoscere queste cose perché così quando leggiamo i passi delle scritture, quando noi leggiamo la parola di Dio, dobbiamo essere in grado di capire e inquadrare bene quel passo a quale periodo di tempo, a quale epoca che ha stabilito il Signore appartiene. E questa è una cosa molto importante. Ad esempio dobbiamo capire, una cosa importante che dobbiamo capire è quale epoca stiamo vivendo noi nelle Sacre Scritture, qual è l'epoca che noi stiamo vivendo e che è indicata nella parola di Dio. E poi partendo quindi dalla nostra epoca, partendo dal periodo che noi stiamo vivendo, esaminando le Sacre Scritture dobbiamo essere in grado di capire qual è l'epoca, il periodo che deve venire, che presenta determinati segni, che presenta determinate caratteristiche. Quindi noi dobbiamo inquadrare bene tutte queste cose partendo dal periodo in cui noi stiamo vivendo e inquadrare bene anche per inquadrare anche bene l'epoca che dovrà venire subito dopo la nostra. Perché questo è importante inquadrare anche bene l'epoca che deve venire? Perché ogni epoca è determinata da determinati fattori secondo le scritture. Quindi noi dobbiamo aspettarci, guardando quello che ci insegnano le scritture, ci dobbiamo aspettare quell'epoca, quei segni, quegli avvenimenti, capite? E questa è la nostra speranza. Se noi aspettiamo qualcosa che deve venire, su questa noi riponiamo la nostra speranza. E la nostra speranza non deve essere basata su aspettazioni false. Ad esempio, vi faccio un esempio, noi non dobbiamo basare la speranza su un ritorno invisibile di Gesù Cristo prima della venuta dell'anticristo. Siccome il rapimento segreto è falso, chi ci crede si crea in lui una illusione, una falsità, cioè ripone la sua fiducia in una cosa falsa praticamente. Sta aspettando qualcosa che non avverrà mai, sta aspettando qualcosa che è falso, quindi la sua speranza è falsa. Non è una vera speranza in cose che veramente verranno, devono avvenire secondo le scritture. Quindi vedete, anche capire, segnare, capire bene quali sono le cose che dovranno venire, comprenderle, conoscerle e aspettarle giustamente, riponendo la nostra speranza in queste cose, noi facciamo una cosa giusta, è una cosa buona, che ci fortifica comunque nella comunione con Dio e ci apre gli occhi, ci dà quella sapienza di cui abbiamo bisogno per capire quello che sta succedendo attorno a noi e anche quello che dovrà succedere. Quindi è importante. Oggi voglio parlarvi di questo argomento affinché in linee generali si comprenda quali siano i periodi più importanti, che poi ogni periodo può essere suddivisi in altri sottoperiodi, ma io mi limiterò a parlarvi solo di questo, alcuni, non tutti, possono essere suddivisi in sottoperiodi, ma a me mi interessa citarvi solamente quelli principali, che esponendoli sono cinque i periodi di tempo, sono cinque e sono il principio, adesso vi faccio l'elencazione, il principio che riguarda dalla creazione del mondo alla venuta del primo uomo fino al periodo dura, questo periodo chiamato il principio. Io lo chiamo così perché perché? Perché Gesù lo ha chiamato così, il principio, ma da principio non era così, disse in un punto ai farisei, rispondendo ai farisei quando lo misero alla prova, dopo andiamo a leggere il passo. Rispose ai farisei ma da principio non era così, quindi quel periodo prima della legge di Mosè si chiamava il principio, Gesù lo chiama il principio, quindi il periodo di tempo il principio, poi subito dopo è seguito un periodo di tempo che è quello in cui è durata la caratteristica importante e principale era che il popolo di Israele, era il popolo di Dio quindi, era assoggettato alla legge di Mosè in tutte le prescrizioni, in tutti i punti dovevano osservarla. A questo periodo della legge di Mosè poi è susseguito da Giovanni Battista in poi, perché è da Giovanni Battista che si è cominciato ad annunziare la salvezza per mezzo di Gesù Cristo della venuta del Messia, quindi è da Giovanni Battista in poi che il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Ecco da lì è iniziato il periodo della grazia, della grazia rivolta a tutti i popoli, innanzitutto è rivolta a tutti i popoli e riguarda la salvezza mediante la fede nel sacrificio che Cristo Gesù ha compiuto e mediante la sua risurrezione si viene resi giusti. Quindi gli uomini sono tutti peccatori e possono essere salvati solamente per mezzo della fede. La legge, mentre la legge dimostrava che non era possibile essere salvati per la sua osservanza, poi viene spiegato da Gesù e dagli apostoli, viene spiegato che la salvezza è avviene, è sempre avvenuta per grazia mediante la fede e nel periodo della grazia in cui noi stiamo vivendo, che noi stiamo vivendo, questo periodo è caratterizzato dal fatto che in Cristo Gesù non c'è più distinzione tra i due popoli, gli israele e i gentili, e poi che la salvezza quindi è offerta per fede a tutti quanti. È offerta a tutti, ma naturalmente noi sappiamo bene che verranno salvati solamente quelli che sono scritti nel libro della vita, come ci insegnano le sacre scritture. Ma noi non sappiamo quelli che sono scritti nel libro della vita, di conseguenza cosa facciamo? Annunziamo, abbiamo l'obbligo, che non è una cosa facoltativa, abbiamo l'obbligo di annunziare l'Evangelo della grazia a tutti quanti, tutti quelli a cui il Signore ci mette in cuore di annunziare l'Evangelo a tutti, indistintamente, senza fare alcuna differenza. Dopo il periodo della grazia cosa verrà? Verrà il millennio, un periodo di tempo di mille anni in cui i santi regneranno con Cristo. Poi andiamo a leggere i passi e ne spieghiamo alcuni dettagli. Adesso sto soltanto facendo l'elenco di questi periodi. Quindi verrà il millennio in cui avverrà che il popolo di Dio che è stato salvato, che è fino a quel momento del ritorno del Signore Gesù Cristo, risusciteranno i morti, quelli che saranno viventi, saranno trasformati in un batter d'occhio, andranno ad incontrare Gesù nell'aria e poi scenderanno con lui e inizierà il millennio, inizierà un periodo di tempo di mille anni. Quindi vedete un altro periodo di tempo. Questo è il quarto periodo dei cinque, il quarto periodo di tempo. In questi mille anni si vivrà sulla terra, ci saranno ancora tanti popoli di gentili, ci sarà il popolo di Israele e ci saranno anche i santi risuscitati che non moriranno più, non peccheranno più, che regneranno con Gesù Cristo su questa terra. Tutta Israele, tutta Israele in quel periodo, ci convertirà al Signore e durerà mille anni. Alla fine dei mille anni poi ci sarà il giudizio finale, ci sarà alla fine del millennio la risurrezione degli ingiusti, ci sarà il giudizio finale e inizierà un altro periodo che è il periodo dei nuovi cieli e nuova terra, chiamiamolo eternità, il periodo dell'eternità dove i perduti saranno gettati nello stagno di fuoche di zolfo, dopo il giudizio finale, saranno gettati nello stagno di fuoche di zolfo insieme all'angeli, insieme a Satana e ai suoi angeli, dove saranno tormentati giorno e notte, per l'eternità. Quindi, capite, quando parliamo della parola salvezza, il pericolo da cui bisogna essere salvati è questo, è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco e di zolfo ed è per questo che è importante annunziare l'Evangelo per la salvezza delle anime, perché si parla di salvezza perché c'è un grande pericolo che riguarda l'eternità vissuta nel dolore, nella sofferenza, nei patimenti. Quindi noi vogliamo, il nostro desiderio, quando annunziamo l'Evangelo ai perduti, ai peccatori, perché desideriamo che quelle persone siano salvate e non cadano, non cadano, non siano gettati alla fine in questo stagno di fuoche di zolfo, che è la morte seconda. Dove vivranno i santi in questo periodo di eternità? Questa terra verrà distrutta, i cieli si ritireranno, scompariranno, saranno ritirati come una pergamena, come un rottolo che si chiude. Il Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. Su questa nuova terra, dove vivranno i santi, scenderà la città, la nuova Gerusalemme, dove vivranno dove vivranno poi i santi che saranno stati salvati. Ecco quindi spiegato, elencato i cinque periodi più, diciamo, quelli maggiori, quelli più importanti. Poi all'interno di alcuni periodi, come quello della legge, possiamo suddividere in diversi periodi, prima della cattività, prima della distruzione del Tempio, quello dopo la ricostruzione del secondo Tempio, capite? Possiamo fare delle altre sottocategorie, ma a noi ci interessa capire quello che è più importante è avere a mente l'elenco delle categorie più importanti, perché ogni categoria è segnata da determinati eventi, da determinate situazioni, capite? Ora noi ci troviamo sotto il periodo della grazia. Un'altra caratteristica. Allora, il principio, come abbiamo detto prima, il principio è caratterizzato dal fatto che Dio parla soprattutto di un uomo. Noi consideriamo che c'è stato prima un periodo prediluvio, vedete, anche il principio può essere diviso in sottocategorie, ma a noi ci interessa relativamente. Approfondendo le scritture poi potete fare anche delle sottocategorie, ma prima del diluvio, dopo il diluvio, capite? Ma il principio ci interessa in maniera particolare, perché è un periodo in cui Dio rivolge la sua attenzione e parla in modo particolare di un uomo e della sua famiglia. Parla di Abramo, di suoi discendenti, fino a Giacobbe che ha i suoi dodici figli, vedete, quindi sta parlando della famiglia, della famiglia di Giacobbe che ha dodici tribù, dodici figli di Giacobbe vanno a formare le dodici tribù di Israele che quando erano in Egitto poi sono stati liberati. Quindi queste dodici tribù che prima arrivano in Egitto come la famiglia di Giacobbe, capite? Quando poi passano 400 anni e anche più non si può più parlare della famiglia di Giacobbe con i suoi dodici figli, ma si deve parlare già delle tribù di Israele, le tribù che erano i dodici figlioli di Giacobbe. Ho chiamato il Dio, gli cambiò nome anche di Israele. Quindi in quel periodo, in quel periodo, l'attenzione è concentrata, vedete, sul principio è concentrata su un uomo, Abramo e sulla sua famiglia, fino a Giacobbe. Poi da Esodo l'attenzione passa sul popolo di Israele, su un popolo che sono le dodici tribù di Israele che uscendo dall'Egitto poi si soffermano nel Sinai perché dal Sinai, da quando Dio manda, dà la sua legge a Mosè, lì inizia il periodo della legge di Mosè, praticamente. Perché la legge di Mosè quando inizia? Inizia quando la legge viene data. Quando viene data? Quando il popolo di Israele arriva nel monte Sinai. Viene data la legge di Mosè a Mosè e da lì è cominciata tutta la legge, perché quando erano ancora in Egitto poi qualche comandamento il Dio l'aveva già dato, come la Pasqua, che poi è stata rinnovata nella legge di Mosè. Comunque la legge di Mosè trova il suo punto di inizio principale nel monte Sinai. nel monte Sinai. E a chi è rivolto? In quel periodo che cosa riguarda? Non più un uomo è la sua famiglia, ma durante la legge abbiamo che l'attenzione che Dio dedica nella sua parola la dedica al popolo di Israele, essenzialmente al popolo di Israele. Poi a un certo punto viene Giovanni Battista e subito dopo Gesù Cristo. Quindi fino a quel momento hanno avuto autorità su tutti la legge di Mosè, ma poi ha cominciato ad avere autorità il periodo della grazia da Giovanni Battista in poi e soprattutto dalla venuta di Gesù Cristo, dalla sua vita, dalla sua morte, dalla sua morte in croce e dalla sua risurrezione. Abbiamo che lì vengono gettate le basi per il periodo, le basi della dottrina, del comportamento, di tutto come si doveva, quello che si doveva insegnare, come ci si doveva comportare, inizia appunto un altro periodo, perché la legge di Mosè veniva portata a compimento, la legge di Mosè aveva delle ombre di cose che dovevano avvenire. Ecco, vennero al tempo di Gesù e degli Apostoli, avvenne questo, che la legge si adempì. Quindi inizia un altro periodo, il periodo della grazia. A chi è rivolto? Abbiamo visto che il periodo del principio era rivolto a un uomo e alla sua famiglia, l'attenzione particolare. Sotto la legge l'attenzione era posta sul popolo di Israele. Sotto la grazia sono presi in considerazione tutti i popoli della terra. Tutti i popoli. Bene. Mentre per quanto riguarda dopo il millennio, cosa abbiamo? Abbiamo lì due elementi che caratterizzano in modo particolare che caratterizzano in modo particolare il periodo del millennio. Ed è quello che tutto il popolo di Israele si convertirà al Messia, cioè a colui che hanno trafitto, che riconosceranno di aver trafitto. Quindi credono in Gesù Cristo, lo accettano come Messia. Dall'altra vediamo che Gesù Cristo sulla terra sarà presente e insieme a Lui ci saranno i santi che sono risuscitati e che regneranno con Lui per mille anni. Capite? Ecco perché è scritto regneremo con Lui, regneremo con Lui. Quando trovate dei passi che fanno intendere che noi regneremo con Cristo, si intende che noi regneremo quel millennio. Attenzione. Regneremo per mille anni insieme a Gesù Cristo. Dopo quel periodo, dopo quel periodo, poi verrà il tempo, insomma, l'eternità. Ecco, chiamiamola così, l'eternità. Il periodo dei nuovi cieli è della nuova terra. Lì sarà tutto nuovo. Quindi la caratteristica principale sarà appunto questa, che questa terra e questi cieli non ci saranno più, saranno distrutti. Dio creerà nuovi cieli e nuova terra. Ribadisco questo concetto perché ci sono quelli, come i testimoni di Geova, come il presidente delle Adi, quello lì, Francesco Toppi, che è morto, insegnavano, come i testimoni di Geova, insegnano che questa terra verrà restaurata. Insegnano una famosa falsa dottrina chiamata Gap Theory, cioè teoria della pausa, una particolare tipo di teoria che dice praticamente che la terra è stata già restaurata e verrà restaurata un'altra volta ancora, cosa che non è assolutamente biblica. Tutto questo concetto si basa in una pausa tra il primo e il secondo versetto di Genesi. Tra il primo e il secondo versetto c'è uno spazio bianco. In quello spazio bianco è inserita la Gap Theory, cioè sul nulla. Questi parlano sul nulla. Però questa è una cosa che si deve approfondire a parte questa falsa dottrina. Noi adesso dobbiamo sapere che c'è, ma è falsa, perché non ci sarà nessuna restaurazione di questa terra, lo ribadisco, ma sarà distrutta col fuoco. Uno può dire ma c'è scritto che Dio non distruggerà la terra. No, non c'è scritto che Dio non distruggerà la terra. C'è scritto che Dio non distruggerà la terra con l'acqua. Capite? Ma Dio distruggerà la terra col fuoco. La distruggerà col fuoco e sparirà. Sparirà questa terra, spariranno questi cieli e lasceranno il posto a nuovi cieli e nuova terra, un nuovo creato che Dio ha stabilito. Adesso abbiamo elencato, quindi abbiamo fatto l'elenco di questi cinque periodi. Adesso andiamo a vedere biblicamente da dove possiamo dedurre questi periodi di tempo nel quale ci sono determinati accadimenti che li definiscono in maniera particolare. Capite? Il periodo, epoca, definiamo il periodo qualcosa che li caratterizza, che è un periodo che è caratterizzato da qualcosa di particolare. Naturalmente il primo periodo è quello prima della legge di Mosè che Gesù chiama, Gesù lo chiama il principio e così lo chiamiamo anche noi. Adesso andiamo a leggere, aprite la vostra Bibbia al capitolo, al Vangelo di Matteo, al capitolo 19, dove Gesù sta discutendo con i farisei. Discutendo con i farisei Gesù naturalmente io non prenderò cioè non mi soffermo a parlare del concetto che è pieno di significati che riguarda appunto il divorzio, il matrimonio, la separazione, il risposarsi. Capite? Questo concetto che citerò adesso ci interessa dal punto di vista che Gesù determina la distinzione di due periodi, cioè dal periodo di Mosè, della legge di Mosè e il periodo prima che lui chiama il principio. Capite? Noi prendiamo i passi per capire questa distinzione che Gesù fa. e andiamo a leggere dal versetto 3 19 3 di Matteo e dei farisei si accostarono a lui tentandolo e dicendo è egli lecito di mandare via per qualunque ragione la propria moglie? Ed egli rispondendo disse loro non avete voi letto che il creatore da principio li creò maschio e femmina e disse perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà con la sua moglie e i due saranno una sola carne tal che non sono più due ma una sola carne quello dunque che il Dio ha congiunto l'uomo non lo separi ed essi gli dissero perché dunque comandò Mosè di darle un atto di divorzio e mandarla via? Gesù disse loro fu per la durezza dei vostri cuori che Mosè vi permise di mandar via le vostre mogli ma da principio non era così vedete? quindi qualcosa che riguardava il matrimonio presenta due caratteristiche diverse durante il periodo del principio Gesù dice che non era lecito di mandare via la moglie ma ne dovevano avere una sola mentre durante la legge di Mosè per la durezza dei loro cuori per la durezza dei loro cuori il Dio aveva stabilito che potevano mandar via la moglie bastava che bastava che diciamo prima di mandarla via dovevano dargli un atto di divorzio capite? quindi Gesù qui fa a noi ci interessa adesso dal punto di vista della distinzione cioè il problema che sta la questione che sta affrontando con i farisei a cui risponde a noi ci interessa dal punto di vista delle epoche dei periodi che Gesù fa la netta distinzione tra il periodo del principio in cui una determinata legge era in un certo modo no? mentre sotto la legge di Mosè la legge diciamo la legge di Mosè comprendeva un'altra cosa questo argomento naturalmente questo argomento poi oggi siccome Gesù lo diceva durante il periodo della grazia della grazia la 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 situazione come deve essere vista cioè che sotto la grazia Gesù vuole far capire che sul divorzio bisogna attenersi a quello che era da principio capite non più a quanto disponeva la legge di Mosè ma dal principio quindi quindi quello che Gesù quello che Dio ha stabilito anche sotto la grazia era come quello che aveva stabilito aveva stabilito da principio nel periodo del principio quindi anche sotto la grazia sta rispondendo ai farisei in questa maniera però vedete quello che quello che noi ci interessa quel punto non lo approfondiamo dottrinalmente o l'abbiamo già approfondito non mi ricordo se c'è a voce ne abbiamo parlato tantissime volte ma non mi ricordo se ho parlato espressamente se ho fatto qualche predicazione su questo argomento specifico se non l'ho fatto dovrei prima o poi affrontarlo ma adesso noi questi passi questa parte dottrinale ci interessa per la distinzione che Gesù fa dei periodi questo per farvi capire che vedete la distinzione che fa Gesù dal principio con il periodo della legge della legge di Mosè per quanto riguarda la legge di Mosè quando è iniziata abbiamo già accennato che la legge di Mosè è iniziata quando il Dio ha dettato la legge i comandamenti a Mosè e qui dobbiamo tornare indietro con le sacre scritture e tornare al libro di Esodo nel libro di Esodo leggiamo qualche passaggio per per farvi capire che come si determina il periodo cioè che cosa lo caratterizza la caratteristica principale è quando inizia inizia il periodo della legge di Mosè inizia appunto da Mosè e in modo particolare quando sul monte Sinai il Dio dà degli ordini dà appunto il decalogo cioè i dieci comandamenti e tutta la legge e tutta la legge viene comandata dal monte Sinai il monte Sinai praticamente Israele uscì dall'Egitto attraversando il Mar Rosso in maniera miracolosa e potente non c'è stato nessun abbassamento di marea non c'è stato niente di naturale e di scientifico quel passaggio del Mar Rosso avvenne con l'acqua che si ritira ai due lati formando due muri d'acqua due muri d'acqua e la parte di terra centrale viene asciugata per permettere ai carri per permettere al popolo di passare a tutto il bestiame di Israele attraversare il Mar Rosso questo in maniera miracolosa e potente per la mano di Dio con braccio potente è avvenuto questo dico questo perché alcuni leggono la Bibbia ma non ci credono noi dobbiamo credere a quello che è scritto anche perché noi abbiamo creduto in un iddio potente e glorioso cioè non è che abbiamo creduto facciamo noi non facciamo l'ora di religione capite cioè nel senso quando una volta alla settimana ci dobbiamo riunire per fare l'ora di religione ma il nostro cuore non è presente no non è così la tutta la nostra vita è impregnata in quello che dicono le sacre scritture noi crediamo nella prima parola fino all'ultima perché il nostro Dio è potente non è mutato quello che sono mutate sono mutate le varie epoche sono mutate determinate leggi dei vari periodi ma il Dio in tutti i periodi ha sempre operato potentemente e opererà sempre fino alla fine capite il Dio non è mutato sono mutate le epoche è mutata la legge che vigeva in quell'epoca ma il Dio non è mutato attenzione non è che facciamo mutare il Dio noi no il Dio è sempre lo stesso Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri oggi e in eterno la parola di Dio è vivente permanente la parola di Dio non passa è sempre quello che Dio ha fatto nel passato può farlo ancora oggi in poche parole questo credere in quello che sta scritto manifesta la fede di un credente un credente che dubita un credente che comincia a trovare giustificazione su certi passaggi che sono scritti nella Bibbia non ha fede manifesta di non avere fede ha dei dubbi capite comincia a dare giustificazioni mentali ma questo avviene perché non ha fede non ha fede in quei passi non ha fede forse non ha fede per niente non lo so però sicuramente sta manifestando di non avere fede in quei passi noi invece dobbiamo avere fede in tutto quindi quei muri d'acqua c'erano io non so quanto erano alti muri d'acqua del Mar Rosso non lo so però erano dei muri sicuramente spaventosi quando ci passavi in mezzo capite cioè voi sapete che quando una macchina cade in acqua non riesce a aprire lo sportello talmente la pressione talmente il peso dell'acqua spinge lo sportello voi immaginatevi quale potenza era necessaria aprire il Mar Rosso e tenere i muri d'acqua che pressano su questa forza con la loro forza che pressano che vogliono racchiudersi vogliono riunirsi le acque questo ci fa anche capire con quale furia le acque si richiusero sopra l'esercito egiziano quando Dio distrusse l'esercito dell'Egitto lo distrusse con quelle acque quelle acque che erano veramente potenti quando i muri caddero quando cadde tutta quella massa d'acqua sull'esercito non hanno potuto resistere chi poteva resistere a quella massa d'acqua vedete come Dio è potente e protegge il suo popolo e quando deve far sparire i suoi nemici li fa sparire in un attimo altro che quindi facciamo attenzione temiamo il Dio il nostro compito è quello di conoscerlo approfondire la nostra conoscenza di chi è Dio e poi la conseguenza di questa conoscenza guardando anche i vari giudizi di Dio come anche la sua misericordia guardando i suoi giudizi che noi dobbiamo temere Dio amarlo e temerlo nello stesso tempo amare Dio ma anche temerlo perché Dio è giusto e non tiene il colpevole per innocente quindi consideriamole queste cose questo deve sempre accompagnarci la fede nella parola di Dio e il timore verso quelli Dio che leggiamo nelle scritture non ce lo dobbiamo fare mentalmente noi non ci dobbiamo scolpire l'iddio nella nostra mente e cominciare a dire no non fa morire nessuno non manda malattie noi non dobbiamo inventarci nulla non ci dobbiamo inventare chi è Dio noi dobbiamo leggere le scritture e vedere ma Dio fa vivere e fa morire chi vuole punto di domanda sì Dio fa vivere e fa morire chi vuole ma Dio manda i fulmini si li manda sopra i suoi nemici fa grandinare si sopra i suoi nemici fa venire le alluvioni si fa venire maremoti terremoti tutti fa morire le persone i malvagi certo fa morire anche i giusti e si perché viene il momento che anche i giusti devono morire non è che muoiono solo gli ingiusti muoiono anche i giusti quindi non può taluni venirmi a dire ah veri quel giusto è morto eh certo se l'è portato con sé se era giusto quindi qual è il problema se decide di portarselo con sé il problema non è se uno vive o muore il problema non è questo il problema è quando muore dove vai e questa è la questione perché se uno è santo e muore e Dio lo chiama a sé gloria a Dio è andato a riposarsi nei cieli per adesso e quindi non sta male sta meglio di noi che si è di partito chi è che sta peggio di noi sta peggio di noi quelli che invece vengono gettati all'inferno capite ecco allora ecco quindi il momento importante da considerare non è non è il fatto che Dio faccia morire faccia morire ma il problema è dove va chi muore questa è la vera la vera questione che bisogna porsi quindi noi non ci dobbiamo meravigliare se Dio chiama uno chiama l'altro chiama fa morire i malvagi perché attenzione i malvagi li fa morire non è che li fa vivere nel momento nel momento in cui Dio li fa morire dove li manda quello è il problema i giusti li fa morire anche quelli muoiono c'è scritto nei salmi cosa di gran momento è la morte dei suoi figlioli quindi i giusti muoiono Dio è vicino ai suoi santi che muoiono ma si devono di partire ci si di parte da questo corpo non è che vivremo qui diciamo su questa terra per sempre ci sono determinate cose che Dio ha stabilito tra quali quella che si può morire oppure se verrà prima il Signore quando sarà che si saranno avverati tutti i segni e poi il Signore ritornerà e qualcuno sarà ancora vivo sarà trasformato in un momento ecco ci saranno di quelli che non gusteranno la morte che non moriranno però quelli che Dio ha stabilito adesso noi dobbiamo sapere che di Dio dobbiamo avere un pensiero una conoscenza di Dio che non è basata sulla nostra mente sulla mente del presidente dell'organizzazione sulla mente degli scienziati sulla mente dei filosofi no quello che noi pensiamo di Dio lo dobbiamo leggere nelle sacre scritture il suo carattere quello che lui fa quello che opera gli insegnamenti che ha dato cosa gli piace cosa non gli piace capite cosa è secondo la sua volontà cosa non lo è lo dobbiamo vedere esclusivamente dalle sacre scritture quindi se Dio fa morire i malvagi fa morire anche i giusti quello è Dio noi dobbiamo crederci capite no perché c'è qualcuno magari che può cominciare a dubitare ah ma vabbè ma i santi muoiono abbiamo pregato per la sua guarigione ed è morto lo stesso no ma se Dio ha stabilito di prenderlo noi abbiamo fatto bene a pregare ma se Dio ha deciso di prenderselo non c'entra niente è il suo piano quindi noi non possiamo assolutamente opporci ai piani che Dio ha fatto che ci piacciano o non ci piacciono le cose andranno così come lui ha stabilito quindi ora vediamo la legge ritorniamo al periodo della legge quindi il popolo di Israele è uscito dall'Egitto passando attraverso il Mar Rosso dopo che ci sono state le dieci piaghe potenti che si sono manifestate in Egitto il popolo di Israele esce cammina nel deserto e arriva al monte Sinai al monte Sinai il Dio parla al suo servo Mosè e gli espone la legge la legge tutta la legge che avrebbero dovuto osservare nei minimi dettagli gli dice come dovevano vestirsi i sacerdoti come dovevano tutti i sacrifici che dovevano fare tutte le leggi le prescrizioni sanitarie la circoncisione che doveva venire l'ottavo giorno come ci si doveva comportare in tanti casi specifici e Dio è savio e ha stabilito come come il popolo il suo popolo doveva comportarsi ci sono regole di tutti i generi di tutti i tipi ad esempio che non dovevano fare i propri bisogni fisici dentro il campo dovevano uscire fuori vedete era una cosa molto importante molto importante per la sanità per la sanità del popolo quindi non dovevano fare assolutamente i suoi bisogni in mezzo al campo ma dovevano farlo dovevano allontanarsi praticamente quindi questo per farvi un esempio ma c'erano tante cose sono state stabilite ma ora leggiamo qualche passaggio biblico per per farvi vedere che effettivamente inizia un periodo nuovo per il popolo ormai formatosi di Israele quindi non più la famiglia di Giacobbe ma il popolo di Israele formato da 12 tribù inizia per loro un nuovo periodo dopo essere stati angariati e oppressi in Egitto il Dio si ricorda di loro gli fa uscire e arrivati al monte Sinai il Dio dà loro la legge leggiamo qualche passaggio capitolo 19 di Esodo dal versetto leggiamo dal versetto 20 l'Eterno l'Eterno dunque scese sul monte Sinai in vetta al monte e l'Eterno chiamò Mosè in vetta al monte e Mosè vi salì e l'Eterno disse a Mosè scendi avverti solennemente il popolo onde non faccia irruzione verso l'Eterno per guardare e non ne abbiano a perire molti e anche i sacerdoti che si appressano all'Eterno si santifichi affinché l'Eterno non si avventi contro loro Mosè disse all'Eterno il popolo non può salire sul monte Sinai poiché tu ce l'hai divietato dicendo poni dei limiti attorno al monte e santificalo ma l'Eterno gli disse va scendi a basso poi salirai tu e Aronne con te ma i sacerdoti e il popolo non facciano irruzione per salire verso l'Eterno onde non si avventi contro loro Mosè discese al popolo e glielo disse allora il Dio pronunziò tutte queste parole dicendo io sono l'Eterno l'Idio tuo che ti ho tratto dal paese di Egitto dalla casa di Servitù non avere altri di del mio cospetto e così continuando dalla legge i dieci comandamenti e poi seguono tanti altri comandamenti tutti i comandamenti della legge di Mosè e questo è per il popolo di Israele un periodo un particolare tipo di periodo che sul quale su quel popolo su cui è concentrata la storia di Dio Dio concentra la storia in questo popolo nel popolo di Israele mentre durante il principio la storia era concentrata su un uomo e i suoi discendenti e la sua famiglia cioè Abramo Isacco Giacobbe va bene mentre il popolo mentre durante la legge la storia si concentra su un popolo che è il popolo di Israele e sul monte Sinai viene data questa legge che avrebbe dovuto disciplinare tutta la vita di questo popolo di Israele e quello è un periodo fu un periodo nuovo diverso dal principio ora cosa avvenne avvenne a un certo punto che quest'epoca trova termine trova termine e inizia un altro periodo il periodo della grazia la caratteristica principale del periodo della grazia è che si incentra sulla fede sull'opera che Gesù Cristo ha compiuto cioè la sua morte per i nostri peccati e la sua resurrezione per la nostra giustificazione quindi mentre la legge diceva che gli uomini erano salvati se osservavano la legge in tutti i punti senza sbagliare mai praticamente perché altrimenti sbagliando solo una volta tu eri colpevole di aver trasgredito tutta la legge non solo un punto capite mentre sotto la grazia cosa succede che grazie anche alla legge perché studiando la legge cosa si capisce si capisce che l'uomo non può essere salvato per le proprie opere non è in grado assolutamente di osservarle tutte dalla nascita fino alla sua morte di osservare tutta la legge che Dio ha stabilito l'uomo non è in grado quindi capisce di essere un peccatore quindi la legge ti fa capire che tu non sei in grado di piacere a Dio per le tue opere ecco quindi che ti rendi conto che la legge ti porta a renderti conto che non riesci a essere salvato da solo con le tue forze quindi hai bisogno di un intervento di Dio ti riconosci peccatore ti riconosci debole che non puoi riconosci davanti a Dio che non puoi essere salvato per le tue opere e chiedi aiuto al Signore chiedi misericordia chiedi che Egli abbia pietà di te e avendo la fede nel sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto ecco che i peccati vengono perdonati purificati lavati si diventano nuove creature tutto il peccato viene lavato via purificato quindi non è più presente nell'uomo il peccato quindi vedete il periodo della legge incentrato sulla legge porta a capire che la legge le proprie opere non possono salvare nessuno perché nessuno è scritto anche che nessuno può essere salvato per l'osservanza delle opere della legge e questo periodo quindi della grazia in cui viene spiegato chiaramente come ottenere la salvezza sia il popolo di Israele sia i gentili perché il periodo della grazia non è più incentrato solo ed esclusivamente sul popolo di Israele ma il periodo della grazia è incentrato su tutti i popoli perché la salvezza in Cristo Gesù è aperta a tutti i popoli a tutte le tribù nazioni e lingue non che ogni singola persona sarà salvata no ma che saranno salvati coloro che Dio ha preordinato a vita eterna gente di tutte le nazioni popoli e lingue quelli che Dio ha stabilito compreso un resto un certo numero anche del popolo di Israele non è che Israele sotto la grazia non è compreso sotto la grazia sono compresi tutti i popoli anche un certo numero un residuo di Israele vengono salvati sotto la grazia ora leggiamo qualche passaggio andiamo quindi al nuovo testamento per per capire che inizia quando inizia per individuare il fatto che inizia un nuovo periodo quindi Matteo andiamo a leggere dal Vangelo di Matteo leggiamo dal capitolo 11 Vangelo di Matteo 11 dal versetto 11 in verità io e Gesù che parla in verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto alcuno maggiore di Giovanni Battista però il minimo nel regno dei cieli è maggiore di lui or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora che parlava Gesù or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza ed i violenti se ne impadroniscono poiché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni vedete quindi qui Gesù vi ricordate prima abbiamo citato le parole di Gesù che segnavano il periodo del principio e il periodo della legge adesso Gesù con queste parole con queste parole cosa sta segnando Gesù sta segnando un'altra differenza di periodo cioè il periodo della legge vedete dice che tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni vedete quindi il periodo della legge è durato fino a Giovanni Battista dopo Giovanni Battista il regno dei cieli viene preso in un'altra maniera cioè o meglio o meglio è l'esposizione che cambia ma in realtà la salvezza è stata sempre per fede ci tengo magari uno pensa ma la legge allora erano salvati per le opere no nessuno mai è stato salvato per le opere dall'inizio alla fine di tutte le scritture tutti sono stati salvati per mezzo della fede Abele l'offerta di Abele era gradita a Dio perché la offriva con fede a differenza di Caino anche sotto la legge erano salvati quelli che avevano fede perché è vero che nella legge era diciamo si annunciava la salvezza per le opere però è vero anche che quelli a cui Dio dava di intendere perché è Dio che dava da intendere comprendevano bene che la salvezza si otteneva anche sotto la legge per mezzo della fede infatti quando Gesù parla con Nicodemo nel capitolo 3 del Vangelo di Giovanni parlando della nuova nascita gli dice tu sei dottore della legge e non sai queste cose riferendosi alla nuova nascita quindi nelle scritture il dottore della legge Nicodemo attraverso le scritture lui poteva poteva dimostrare capire dimostrare che la nuova nascita si poteva ottenere si otteneva anche sotto la legge cioè da quando si passava dal fatto di essere perduti a quando si era salvati si doveva ottenere anche sotto la legge sempre per mezzo della fede della fede in Dio capite sempre per mezzo della fede in Dio ora sotto la grazia che cosa è avvenuto che questa esposizione della salvezza che avviene per mezzo della grazia di Dio mediante il perdono mediante la fede nel sacrificio di Cristo Gesù è stata esposta più pienamente mentre nella legge era più nascosta capite nella legge era nascosta e sotto la grazia dai Vangeli e tutte le altre scritture successive degli apostoli praticamente l'esposizione della salvezza per fede è diventata chiara e manifesta e manifesta più manifesta più chiara non è non è stata più nascosta e quindi anche qui noi ci interessa vedete le parole di Gesù le cito perché anche queste fanno segnare segna il limite di demarcazione tra un periodo e l'epoca della legge viene viene diciamo si separa dal periodo della grazia dal periodo della grazia rivolta a Dio da Dio a tutti i popoli e la legge è durata quindi fino a Giovanni Battista da Giovanni Battista in poi inizia il periodo della della grazia a riguardo della grazia leggiamo anche qualche passaggio che la caratterizza per capire che cosa caratterizza la grazia ora leggiamo andiamo all'epistola di Paolo ai Galati dal capitolo 3 dal versetto 2 e leggiamo cosa scrive l'Apostolo Paolo questo soltanto desidero sapere da voi avete voi ricevuto lo Spirito allora il contesto è questo che i Galati avevano ricevuto l'Evangelo l'Evangelo diciamo esposto dall'Apostolo Paolo quindi il messaggio che riguardava la grazia cosa era successo era successo che i Galati erano stati ammaliati erano stati ingannati c'erano di quelli che gli avevano convinti che avevano accettato l'Evangelo erano stati salvati per mezzo della grazia ma volevano continuare la loro vita osservando la legge capite quindi essendo sotto la legge e quindi le parole di Paolo vanno viste sotto questo punto di vista che Paolo cercava di fargli capire che la grazia non è la legge c'è la salvezza sotto la grazia è una cosa l'osservanza della legge era un'altra ecco quindi da questo punto di vista partendo da questa da questo punto di vista dell'Apostolo Paolo è più comprensibile quello che lui ha scritto quindi quindi rileggiamo capitolo 3 versetto 2 di Galati questo soltanto desidero sapere da voi avete voi ricevuto lo spirito per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede siete voi così insensati dopo aver cominciato con lo spirito volete ora raggiungere la perfezione con la carne avete voi sofferto tante cose in vano seppure è proprio in vano colui dunque che vi somministra lo spirito ed opera fra voi dei miracoli lo fa egli per la via delle opere della legge o per la predicazione della fede siccome Abramo credete a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli di Abramo e la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede preannunziò ad Abramo questa buona novella in te saranno benedette tutte le genti tal che coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione perché è scritto maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica or che nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio è manifesto perché il giusto vivrà per fede ma la legge non si basa sulla fede anzi anzi essa dice chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge essendo divenuto maledizione per noi poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù affinché ricevessimo per mezzo della fede lo spirito promesso si potrebbe anche continuare perché tutta l'epistola di Galati fa la differenza la caratteristica di questa epistola che fa la differenza per quanto riguarda la salvezza la differenza che c'è tra la legge e la predicazione della fede qui viene chiamata il periodo della grazia Paolo lo chiama la predicazione della fede vedete perché sotto la grazia è stata predicata la salvezza a tutti i gentili per mezzo della fede e i Galati trattandosi di gentili rientravano in questa predicazione della fede infatti non aveva senso che loro si applicassero voglio dire questo vale anche per i giudei ma vale molto di più per i gentili cioè i gentili non si dovevano applicare non si devono tuttora applicare ad osservare la legge di Mosè la legge di Mosè perché si è salvati per mezzo della predicazione della fede abbiamo ricevuto noi lo spirito santo che ci ha salvati e la rigenerazione spirituale l'abbiamo ricevuto per mezzo della predicazione della fede non per mezzo della predicazione della legge di Mosè capite quindi qui segna vedete anche l'epistola ai Galati segna la differenza tra la legge che rappresenta la salvezza per mezzo delle opere compiute e la grazia che la salvezza rappresenta la salvezza per mezzo della fede una caratteristica ecco che distingue ancora il periodo della grazia dal periodo successivo perché dopo il periodo della grazia quindi adesso noi ci troviamo nel periodo sotto la grazia e siamo in attesa che si verifichino determinati eventi che porteranno all'inizio di un nuovo periodo di una nuova epoca della storia del popolo di Dio della chiesa del popolo di Dio che è chiamato il millennio cioè un periodo di tempo di mille anni dove Gesù regnerà sulla terra con giustizia e i credenti regneranno con Gesù saranno risuscitati e regneranno con Lui quindi noi ci troviamo sotto la grazia e siamo in attesa che venga questo periodo chiamato del millennio quindi è importante capire determinate conoscere sapere determinate caratteristiche che ci porteranno che ci faranno capire che si starà avvicinando il periodo del millennio ora una delle caratteristiche una delle differenze che riguarda questo periodo del millennio col periodo sotto la grazia lo leggiamo in romani cioè sotto la grazia diciamo che è un periodo in cui Dio si concentra su tutti i popoli la salvezza Dio la fa la storia si concentra soprattutto sui gentili su un certo numero vedete come tutto è preordinato da Dio dove il numero dei gentili è già determinato in romani 11 25 è scritto perché fratelli non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi che cioè un induramento parziale si è prodotto in Israele finché sia entrata la pienezza dei gentili e così tutto Israele sarà salvato secondo che è scritto il liberatore verrà da Sion qui sta annunziando il passaggio l'Apostolo Paolo quindi spiega alcune cose che riguardano la differenza tra il periodo della grazia sotto la grazia e il periodo del millennio infatti una delle caratteristiche queste che sotto sotto la grazia vengono salvate un certo numero di gentili di gente che non fa parte del popolo di Israele qui dice che infatti un induramento parziale si è prodotto in Israele parziale perché una parte di Israele anche sotto la grazia viene salvata capite quindi non poteva Paolo scrivere che un induramento si è prodotto nel popolo di Israele perché perché una parte comunque anche sotto la grazia viene salvata quindi giustamente ha scritto una parte ha detto un induramento parziale si è prodotto in Israele finché questo induramento di una parte di Israele fino a quando durerà durerà fino a quando la pienezza dei gentili non sia entrata cioè fino a quando i gentili raggiungeranno un certo numero già stabilito da Dio capite è tutto stabilito da Dio il Dio è sovrano e lui governa quindi quando sarà il momento quando il numero dei gentili che si convertiranno allora il tempo dei gentili praticamente cesserà c'è sotto la grazia è un chiamato lo chiamiamo anche il tempo anche dei gentili il tempo dei gentili cosa succederà durante il millennio tutta Israele si convertirà al Signore si chiuderà il tempo dei gentili vedete e questo con questo passaggio possiamo anche rispondere a quelli che dicono ma durante il millennio i gentili saranno salvati da quello che c'è scritto qui essenzialmente io non lo voglio escludere totalmente perché se uno si converte al popolo di Israele si fa circoncidere non lo so questa è una cosa che voglio lasciare in sospeso ma una cosa è certa che i tempi dei gentili cesseranno e tutta Israele si convertirà al Signore al momento in cui Gesù ritornerà perché il millennio quando inizia il millennio inizia il giorno che il Signore ritorna capite quando il Signore tornerà inizierà il millennio perché quando il Signore tornerà il tempo dei gentili sarà chiuso la Chiesa sarà risuscitata dai morti prenderà un corpo incorruttibile indistruttibile immarcescibile che non peccherà più che non morirà più e insieme a Gesù regneranno sulla terra ora tutta Israele vedendo vedendo colui che il popolo ha trafitto vedendo Gesù vedendolo praticamente perché Gesù tornerà colui che hanno trafitto questo è scritto lo leggiamo andiamo a leggerlo in Zaccaria che tutto il popolo di Israele si convertirà all'inizio del millennio quando il Signore ritornerà in Zaccaria quindi al capitolo 12 dal versetto 9 è scritto e in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme sì perché la situazione prima della venuta del Signore Gesù Cristo come sarà che tutte le nazioni della terra gli eserciti saranno tutti gli eserciti delle nazioni della terra saranno riunite nella valle di Meghiddo per combattere contro Israele contro Gerusalemme capite ecco quindi a cosa si riferisce questo passaggio in Zaccaria e in quel giorno avverrà che io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme perché cosa avverrà che al ritorno del Signore Gesù distruggerà farà morire tutti quegli uomini che saranno in quella valle li farà morire al suo ritorno questa è una di quelle cose che il Signore farà al suo ritorno un'altra delle cose che farà Gesù quando lui ritornerà è col soffio della sua bocca prenderà l'anticristo e il falso profeta li getterà vivi nello stagno di fuoco e di zolfo vedete quella è un'altra cosa che avverrà il giorno del ritorno del Signore prima di tutto questo avverrà la risurrezione dei morti sempre in quel giorno del ritorno del Signore l'inizio del millennio ci sarà la risurrezione dei morti quelli che saranno ancora viventi saranno mutati in un batter d'occhio e andranno a incontrare Gesù nell'aria poi incontrato a mezz'aria continueranno tutti insieme a scendere verso Gerusalemme e toccherà Gesù toccherà il monte il monte degli olivi che si spaccherà in due metà a settentrione e metà andrà verso il meridione e da quel momento Gesù comincerà a regnare sulla terra ci sarà un regno di pace e di giustizia ma continuiamo a leggere il profeta Zaccaria perché stiamo leggendo questo passaggio che ci fa capire che tutta Israele al ritorno del Signore vedendo colui che hanno trafitto i loro progenitori praticamente tutta Israele si convertirà a Cristo lo riconoscerà come Messia colui che hanno trafitto quindi al versetto 10 è scritto espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione ed essi riguarderanno a me a colui che essi hanno trafitto e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primo genito vedete lo riconosceranno guarderanno a colui che hanno trafitto cioè Gesù Cristo e si convertiranno a lui perché Dio spanderà vedete lo spirito di grazia e di supplicazione su tutta Israele e tutti si convertiranno e tutti si convertiranno tutta Israele si convertirà al Signore e lì al ritorno quindi a cominciare il giorno del ritorno del Signore Gesù Cristo inizierà il millennio il millennio lo leggiamo lo andiamo a leggere adesso in Apocalisse al capitolo 20 andiamo a leggere adesso in Apocalisse dove si parla dove si parla del del millennio allora al capitolo 20 di Apocalisse dal versetto 1 poi vidi quindi c'era già stato il ritorno del Signore vedete dal 19 7 andiamo un po' prima così vi confermo quello che al ritorno del Signore succede alcune cose che vi ho citato dal versetto 19 17 di Apocalisse poi vidi un angelo che stava in pie nel sole ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo venite adunatevi per il gran convito di Dio per mangiare carni di re e carni di capitani e carni di prodi e carni di cavalli e di cavalieri e carni di ogni sorta e carni di soldo e civili 47 cose invenобрità che avevano una delle cose che avverrà che vi ho detto prima nella valle di Megiddo che ci saranno tanti eserciti di tutte le nazioni della Terra radunati per combattere contro Israele contro Gerusalemme e Gesù scenderà e lì distruggerà al suo ritorno farà morire tutte queste persone questi eserciti li farà morire e gli uccelli del cielo si ciberanno delle loro carni praticamente ecco perché in un passo in matteo mi sembra capitolo 24 c'è scritto dove il carname lì si raduneranno le aquile si raduneranno gli uccelli rapaci perché dove ci saranno i cadaveri e lì stava annunziando la fine dei tempi capite quindi vedete come si collega quindi quel passo voleva dire che alla fine dei tempi quando tornerà il signore una delle cose che succederà sarà quella che gesù farà morire queste questi eserciti di queste nazioni in quella valle e gli uccelli rapaci si ciberanno delle loro carni vedete questo è una delle cose che si adempirà poi dice e vidi la bestia e il re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e all'esercito suo e la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambe due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo vedete quindi sta parlando dell'anticristo della bestia e il falso profeta che saranno gettati vivi nello stagno di fuoco e di zolfo questo verrà al ritorno del signore gesù cristo e inizierà il millennio questo è quello che noi stiamo aspettando il ritorno del signore nostro gesù cristo ed ora continuando sempre in apocalisse leggendo ancora comunque il versetto 21 per concludere anche il capitolo 19 e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si sattollarono delle loro carni vedete quindi ancora parla di quello che abbiamo detto prima che morire gesù farà morire tante persone e gli uccelli del cielo si mangeranno le loro carni ora leggiamo dal capitolo 20 dal versetto 1 poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano ed ed egli afferrò il dragone e il serpente antico che è il diavolo e satana e lo legò per mille anni lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti i mille anni dopodiché egli ha da essere sciolto per un po di tempo quindi qui cosa dice dice che in quel periodo vedete gesù cristo regnerà sulla terra però un'altra delle caratteristiche un'altra cosa che caratterizzerà quel periodo è che il seduttore di questo mondo il serpente antico il diavolo satana sarà incatenato e gettato nell'abisso capite non potrà più andare in giro a sedurre questo non vuol dire che il peccato non ci sarà più durante il millennio e questo lo leggiamo poi nei profeti nel profeta isaia leggiamo che il peccatore morirà giovane morirà a cent'anni cioè sarà colpito da maledizione il peccatore sarà colpito da maledizione da giovani cioè a cent'anni quindi a cent'anni saranno ancora giovani cosa comprendiamo da questo comprendiamo che nel periodo del millennio praticamente quelli che vivranno in quel periodo vivranno come vivevano nel principio cioè centinaia centinaia di anni capite vivranno in quel periodo alla presenza del signore gesù cristo che regnerà insieme ai santi che i santi non moriranno più e non hanno più un problema di invecchiare non c'è più il tempo per quanto riguarda i santi che sono resuscitati ma per il popolo di israele quando inizierà di nuovo il tempo di israele che si è convertito al signore ma ancora sono nella carne nella carne come siamo noi oggi in quella carne cosa succede che il popolo di israele vivrà lungamente cioè quelli che moriranno a cento anni si dirà che moriranno giovani praticamente mentre oggi diciamo a cento anni è vecchissimo invece in quel periodo che verrà del millennio chi morirà a cento anni morirà giovane il peccato ci sarà ancora perché perché il peccato non è legato a satana il satana fa moltiplicare il peccato seducendo ma il peccato più che altro è legato e dentro il corpo degli uomini che ancora non sono rigenerati che scusate che non sono risuscitati quando uno risuscita a un nuovo corpo in cui non abita più il peccato ma israele in quel periodo che avrà il suo corpo come noi lo abbiamo oggi il peccato abiterà dentro di loro va bene e ci saranno quelli che moriranno perché avranno perché peccheranno lo stesso il peccato ci sarà ancora e questo è una delle caratteri cose che caratterizza vedete il millennio poi cosa verrà cosa succederà alla fine del millennio alla fine del millennio succederà che satana sarà di nuovo sciolto sedurrà le nazioni dei gentili che ci saranno ancora anche alla fine del millennio che non erano scomparse i gentili erano presenti ancora anche durante il millennio non sono scomparsi ci saranno ancora capite però la salvezza si sarà concentrata sul popolo di israele cosa succederà dopo che finiti mille anni satana sarà sciolto e sedurrà le nazioni e le spingerà alla battaglia ancora contro gerusalemme contro israele dove lì è presente il signore no quindi vedete anche se se sa che il signore è più potente di lui le cose avverranno perché devono avvenire perché così il dio ha stabilito cosa avverrà ora lo leggiamo dal capitolo 20 di apocalisse dal versetto 7 e quando i mille anni saranno compiti satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra gog e magog per adunarle per la battaglia il loro numero è come l'arena del mare e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di letta ma dal cielo discese del fuoco e le divorò e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli poi cosa avviene avviene il giudizio dopo questo avviene il giudizio poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo e non fu più trovato posto per loro e vidi morti grandi e piccoli che stavano ritti davanti al trono e i libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro e il mare rese i morti che erano in esso e la morte e l'ades resero i loro morti ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere e la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco questa è la morte seconda cioè lo stagno di fuoco e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco vedete qui praticamente termina il millennio e adesso inizia quel periodo che andiamo a leggere continuando sempre in apocalisse andiamo a leggere l'inizio di un nuovo periodo dell'ultimo periodo che è il periodo dell'eternità e la scrittura dice così al capitolo 21 di apocalisse poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più e vidi la santa città la nuova gerusalemme scendere giù dal cielo da presso a dio pronta come una sposa adorna per il suo sposo e udì una gran voce dal trono che diceva ecco il tabernacolo di dio con gli uomini ed egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli e dio stesso sarà con loro e sarà loro dio e asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro e la morte non sarà più né ci sarà più cordoglio né grido né dolore poiché le cose di prima sono passate e colui che siede sul trono disse ecco io fogni cosa nuova ed aggiunse scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci poi mi disse è compiuto vedete quindi dio inizierà alla fine del millennio farà iniziare un nuovo periodo l'ultimo periodo che è quello dell'eternità praticamente è quale noi vivremo dio creerà nuovi cieli nuova terra noi abiterà abiteremo quelli che saranno trovati scritti nel libro della vita abiteranno nel in questi nuovi cieli nuova terra e su questa terra diciamo sarà poggiata la nuova gerusalemme che adesso è già presente ed è nei cieli mentre la nuova gerusalemme già presente nei cieli già stata fatta da dio i nuovi cieli nuova terra devono essere ancora creati capite non ci sono già devono essere creati e questi era quando leggiamo quindi determinati passi della scrittura talvolta ad esempio come qualche setta fa confonde il periodo del millennio con il periodo diciamo dell'eternità cioè loro dicono che come la scrittura dice come si vivrà nel millennio che il lupo pascerà con l'agnello vi faccio un esempio no ecco quel passo non è riferito al periodo dell'eternità ma è riferito al periodo del millennio capite quindi quel passo avrà una durata di quei mille anni cioè sarà valido per quei mille anni si avvererà in quel periodo cioè perché è importante capire i periodi perché capire i periodi diversi di tempo così ci aiuta ad aspettare le cose giuste e a capire i vari passi delle scritture in quale periodo vanno inquadrati tenendo conto delle caratteristiche di quel periodo di quell'epoca capite perché ogni epoca è caratterizzata da determinati elementi di cui alcuni li abbiamo citati in questa in questo messaggio e questo era ciò che volevo dirvi dei vari periodi affinché vi sia utile avendo chiara la suddivisione dei vari periodi di tempo vi possa essere utile quando studiate le scritture cercate di inserire il passo che state leggendo nel periodo corretto bene questo era il messaggio che questa sera volevo portarvi a dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén